se ci sta qui attacco che si fa finta di cercarlo ma c'è tutte le spine cosa dice? la descrizione dice ecco we found it ho delle chiavi incredibili no non c'è niente da firmare l'ultimo che è stato visto è il 14 maggio io firmo dei firs oggi è il primo giugno 2 giugno dov'è lavorare qui dentro dov'è lavorare qui dentro dov'è lavorare qui dentro dov'è essere nudo qui sono in una di queste feritoie dici? la dice qui? non ti ho fatto tu sei vicino? no però non l'ho fatto sono sopra magneti magneti che c'è di ferro nulla sarà la grondaria per forza eccolo questo cardino si non è magnello sta antico è finito lo spazio mettiamoci qua dietro guarda dietro beh ha preso l'acqua firs vedete ok Grazie. non c'è cosa c'è dentro un po' di droga si spiega tutto è sudato, bagnato c'è un rilascio c'è un rilascio c'è un rilascio guarda qui non lo so se sarà per forza inaccessabile immaginati venire qua con le torce di notte proviamoci magnetica allora è lì magnetica a destra dell'entrata lì vloghi te? difficoltà a dimensione micro dimensione micro? che? si non lo so oddio si si? ah l'ho visto bene fa un culo se mosso la foglia l'ho visto? ha visto cazzo? c'è catenella più stabile possibile questi sono tutti i geocache che abbiamo logato e oggi ne abbiamo trovati quattro e uno però non l'abbiamo trovato che era imboscato scherzo e niente una parola per laijah